Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di JukinXGen Come sempre siamo arrivati all'appuntamento del sabato con Dragon Ball Xenoverse Mi sto memorando a dirlo 2 Ragazzi io sono andato avanti nella storia, ho fatto una missione parallela e ho proseguito la storia di Radish E di Vegeta e Nappa Che poi in realtà c'era Nappa e un altro che ora non mi ricordo, il padre di Goku ragazzi mi sfugge il nome Il problema è che il programma che uso per registrare non mi ha registrato Quindi me ne sono accorto soltanto ora E quindi ragazzi ora andiamo avanti da metamissione Comunque sono le prime missioni quelle classiche dei Saiyan Prima di andare avanti vi invito subito a lasciare un like ragazzi Mi raccomando per sostenere questa serie Commentate, ditemi cosa ne pensate E ora andiamo a vedere il proseguo della storia Non c'è tempo per le domande, devo raggiungere subito Gohan Non ti conosco ma ti ringrazio, ci hai dato un grosso aiuto Perché l'ho aiutato ovviamente a combattere Prendendo la presenza che ti ti sanita mi devo studiare Vuoi venire con me? Ovviamente noi andiamo con il grande Goku Brutalità Saiyan oltre i limiti Condizione di vittoria, sconfiggi tutti i nemici Sconfitta, beh, finiamo i punti vita Eh, siamo arrivati noi Quindi in realtà usurriamo sempre il nostro personaggio Quindi stai indietro, ci penso di se non muori come sempre Va bene Gohan, andiamo Vabbè papà Vabbè dai dai cazzo, combattiamo, su Finalmente si è arrivato, ecco qua, leggeta Ed ecco qui la modifica del tempo con la pergamena Quindi dobbiamo dare una mano a Goku Ah, noi ci vedremo con Nappa Allora subito l'attacco ragazzi Subito l'attacco Nappa l'ho già affrontato prima E l'ho già dato una lezione abbastanza sonora ragazzi Voi non l'avete visto ovviamente perché non l'avete registrato Beccati questo, è tutto stronzo Ovviamente più vado avanti più prendo confidenza che con i tasti E via subito Borbandiamolo Non gli diamo tregua ragazzi, non gli diamo tregua Ecco qua No, qua ho sbagliato il tempo dell'attacco E allora ancora Non gli do tregua ragazzi, non gli do tregua Lo devo disfuggere Allora colpiamolo Ragazzi un altro visto che sotto il primo video di Dragon Ball c'è stato un dislike Ora io vi voglio dire, lo dico a tutti Anziché lasciarmi solo un dislike Scrivetemi in un commento il perché Cioè non vi piace il gioco Non vi piace come l'ho editato io Non vi piace magari come lo porto Se volete vedere inizioni parallele Cioè spiegatemi il perché Del dislike Io l'apprezzo perché comunque è una reaction ed è giusto che Il video può anche, o io posso anche non Non piacere come porto un determinato contenuto Cioè ci sta eh Ragazzi ci sta Eh ecco qua nel frattempo scarica di colpi Cioè ci sta tutto ragazzi Non è che voglio dire Però Anziché lasciare solo un dislike Scrivete il perché del dislike Mi sarebbe più utile Almeno per capire Perché se non vi piace non ve lo porto più Anche veramente Dragon Ball Un pazzisco per Dragon Ball Quindi se mi dite anche il perché Sarebbe meglio Questo vale per tutti Attenzione qua Qualcuno sotto ha sparato un'onda energetica Nappa muore Nel frattempo togliti dai coglioni Tieni Tieni anche se sei morto Ti continuo a picchiare Vegeta sarà sicuramente più cazzo che cattivo Da affrontare Infatti guardate come scappa Tutto bastardo Vieni qua Ok andiamo ad affrontare Guardati questa Vegeta del cazzo E questa e questa e questa e questa Sperai la fine di Nappa Ecco qua Vegeta che poi diventerà un grandissimo Della saga quindi Io lo chiamo il finto cattivo Perché in realtà è dal cuore d'oro Vegeta Ecco qua Sfere di colpi Ragazzi qua dovete andare a tempo Per colpirlo Se no non va la combo Vedete qua sbagliato Come una minchia Guardate come scappa Avete raggiunto il livello 5 Questo non ve l'ho detto Quindi il mio personaggio Si è leggermente potenziato Avete tutti questa e questa Eh KO Vegeta Ce l'abbiamo fatta E' andato KO Vedete La pagherai per questo Ragazzi si sta arrabbiando Vegeta Muori Vuole ucciderci Nappa Attenzione anche qui Scontro Goku Vegeta Guardate qui Grandissimo duello questo ragazzi Qui Nappa Penso di averci fatto qualcosa Ma in realtà vedete Non ci siamo fatti nulla Qua dupla potenza E anche noi stiamo sconfiggendo Nappa Guardate qui Nappa Vegeta Sconfitti Allora grado Vediamo il grado ragazzi Che abbiamo preso grado B Ma l'ho preso pochi colpi Ma l'altro grado B Vabbè Andiamo avanti Allora Vegeta E Nappa Eccoli qui ragazzi In questo caso Doveva diventare una grande scimmia Ragazzi stanno per trasformare Con i scimmioni Andiamo avanti Tanto Sappiamo tutti come va Forza per 10 Forza per 2 Grandi scimmie Beh Vinciamo se li sconfiggiamo E perdiamo se Perdiamo i punti vita Ecco qua la modifica Della pergamena Eh ragazzi Qua la vedo dura Allora vabbè Qua mi spiega Ok lo so già fare Giovanni Ho già fatto Che siano verso lui Allora Beccati questa Nappa Attenzione 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 La coda La coda La coda La coda Ecco qua Preso per la coda Preso per la coda La prima volta Ecco qua Nappa Come cade Per terra Attenzione Eh qua voleva colpirmi Già col macigno Perché ha visto che sto caricando Ma Te la prendi nel figlio Perché Non è stato più furbo io Uh qua Bastardo Vegetta Mi ha colpito al volo Becciamoli la coda Ecco qua Diamoli una bella codata Ecco qua Terra Nappa Via subito Perché ora si trasformerà Cioè avrà l'esplosione Eccola là Infatti E subito Allora Eccoci qua Subito Una bella raffica di colpi Ragazzi Devo dire E allora Beccati questa Nappa Grande Goku Che mi sta aiutando tantissimo Ancora questa per te E allora Prendiamolo per la coda E con questa ragazzi Abbiamo sconfitto Nappa Ecco qua Nappa K E con questa Ancora per te Vegeta Ragazzi C'ha un vigore Di recupero di energia Che è molto più veloce Di quello Di Nappa Ecco Copernato a terra Ragazzi Sono rimasto Solo contro Vegeta Devo ricaricarmi Ragazzi Vediamo lì Cosa intenzione di fare Non lo so Comunque Beccati questa Oh no No Il masso no Eh no Mi ha beccato in pieno Col masso Che bastardo Io da lì in poi Ragazzi Prima di sparare le raffiche Ecco Calcolo cosa fa lui Ora lui me l'ha lanciato E ora io ti lancio La mia raffica Stavolta Ti prego io Vegeta Ok ragazzi Andiamo a prendergli la coda Su 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 Veloce Sì Presa Presa ancora la coda E giù Vegeta Forse ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito Però ho visto Un'altra barretta Di energia gialla Gognoni Nel attesi Crili vuole morire Come sempre Ok ragazzi Siamo in quattro Ah no Go che è nato Subito giù E uso la mia solita Strategia Distraetemelo Ok Andiamo con la solita Strategia Ok andiamo con la solita strategia Eh Quindi guarda Casso ragazzi È il primo a morire Non è Non voglio essere cattivo Però Anche Gohan Cioè Perfetto Grazie della grande mano Che mi hanno dato Veramente Eh vabbè Me la devo vedere da solo Non preoccupare Avete proprio Un vizietto di famiglia Qua mi ha preso Nel frattempo Vegeta Ok Beccali la coda Ecco qua Coda presa È prima volta giù Sarà una lunga partita Ragazzi Ok Come si prosegue Ragazzi Stiamo proseguendo Non so più neanche io Quanto tempo ormai No Non fa lo stronzo Leggete con i massi Non si gioca con i massi Non te l'hanno insegnato Ok ragazzi Becchiamoli la coda Da su Ecco qua ancora Altra codata Vediamo Quanto li togliamo Insomma Via 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 E allora Ora che non la paghi Con questa No No Di quanto ragazzi Mi aveva quasi preso Allora ecco qua Per te Vegeta Guardate Guardate ragazzi Aspetta Per buttarmi i massi Contro È veramente molto Molto furbo Ma Noi lo siamo di più E quindi Andiamo Fermati E precali la coda Ecco qua Ancora ragazzi È lunghissima sta missione E allora È KO ragazzi Finalmente Sì sì Dannazione Lo dico io La mia coda Conclusione Finalmente Ce l'hai fatta Vediamo il grado Ragazzi B Sempre grado B Ok ragazzi Abbiamo finito la missione Dopodiché Trunks È venuto a presentare Con un suo compagno E dopo Abbiamo visto un filmato Del nemico Che affronteremo Che vuole eliminare Kakarot Grazie all'aiuto Dei demoni Degli imperi Con un frutto Che danno una forza incredibile È il frutto Dell'albero della vita Quindi se l'episodio Vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Fatemi sapere Cosa ne pensate Se non vi piace Non lasciate soltanto Un dislike Ma scrivetemi Il motivo Se non vi piace il gioco Se non vi piace Come lo porto io Scrivetemi Il perché gentilmente Come sempre se avete fatto Iscrivetevi al canale Qui sotto trovate tutte le mie pagine social Quindi passate anche da quelle Qui da un giorno dell'83 Tutto E ciao gamers